passato e futuro nel nostro mondo moderno occidentale siamo abituati ad identificarli il passato sta alle nostre spalle il futuro sta di fronte a noi l'inconscio ancestrale intende queste due zone in realtà in modo molto diverso di fronte a noi vi è il visibile ciò che abbiamo già vissuto è visibile ciò che già conosciamo possiamo riconoscerlo essendo presente nella nostra mente soltanto quello che abbiamo già potuto consapevolizzare possiamo già inserire in schemi e in dati ben vissuti viceversa dietro di noi nella parte oscura potenziale abbiamo il futuro il futuro è alle nostre spalle perché il futuro è un qualcosa che non abbiamo ancora vissuto che potenzialmente potremmo vivere un modo oppure nell'altro a seconda delle scelte delle casualità degli eventi di vita perciò il futuro non essendo conosciuto e visibile sta alle nostre spalle in grafologia abbiamo la parte sinistra della scrittura che è relativa al passato e la parte destra che è relativa al futuro quando scriviamo una singola lettera abbiamo una lettera scritta precedentemente che rappresenta il passato esiste già è una lettera potenzialmente che deve essere ancora scritta quando scriviamo la r non abbiamo ancora scritto la o quindi la o che non esiste nel momento in cui scriviamo la r se non a livello potenziale rappresenta il futuro noi in grafologia guardiamo una parola quando è scritta nel suo complesso ormai terminata ma è in realtà mentre la stiamo scrivendo scriviamo una lettera alla volta quindi questa quando viene scritta non avrà nulla dietro quando scriveremo la avrà già la p dietro di lei quando scriveremo la r ci saranno già la p e la nel passato della r mentre la o la l e la saranno nel suo potenziale futuro il passato quindi a sinistra il futuro a destra nell'occhiello avremo che questa sarà la zona della schiena e questa sarà la zona anteriore al corpo lo sguardo sarà quindi rivolto in questa direzione uno sguardo metafisico uno sguardo inconscio la scrittura procede quindi con uno sguardo rivolto verso il margine sinistro è una schiena rivolta verso il margine destro ecco come si presenta il soggetto scrivente mentre elabora la scrittura lo sguardo è in questa direzione borso parte anteriore del corpo ovviamente a livello inconscio e simbolico grazie a tutti